Da Grottagli a Tokyo, il campionato italiano di marcia su strada fa tappa nella città delle ceramiche nell'ambito degli eventi organizzati per Grottagli 2020, città europea dello sport, anche per il 2021 in seguito all'emergenza sanitaria. Un grande evento organizzato nonostante tutto, come sottolinea il presidente del CONI provinciale Michelangelo Giusti. Devo anche fare un plauso non solo all'amministrazione che ha reso possibile questo importante evento, ma anche agli organizzatori che si sono avventurati in un qualcosa veramente di complesso e complicato. Considerando anche che molte manifestazioni di questo tipo a livello nazionale sono state peraltro anche annullate. Per Grottagli è un motivo di orgoglio vista l'importanza della competizione. Una manifestazione che si svolge proprio per l'importanza, la rilevanza nazionale e internazionale che assume all'interno della disciplina di atletica leggera e che è valevole anche per la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno prossimamente. Quindi di conseguenza è un evento importantissimo, di grande caratura, che permetterà agli atleti che saranno ospitati verso la nostra città di realizzare il tempo necessario per le qualificazioni delle Olimpiadi. Ad organizzare l'evento come società, l'ASD Atletica Grottagli è rappresentata in conferenza stampa dal presidente catalano. Siamo riusciti a portare forse per la prima volta a Grottagli una manifestazione dal calibro veramente internazionale. Ci saranno anche dei giudici che vengono appunto dall'estero e quindi penso che vedremo una grandissima gara, non tanto come numeri, in quanto le gare di marcia non sono mai numerose, ma sicuramente sono di altissima qualità. Il piatto forte sarà ovviamente il campionato italiano individuale sui 20 km, che vedrà la partecipazione di Eleonora Giorgi, primatista europea sui 50 km e di italiana sui 20. Il via per questa categoria si avrà alle 9 dallo Stadio d'Amuri. Il tempo per la qualificazione olimpica è di 1 ora e 21 secondi per gli uomini, 1 ora e 31 secondi per le donne ed il percorso sarà lungo poco più di un chilometro nel pieno centro cittadino toccando Via Marconi. Nel totale le iscrizioni sono state 182. Grazie a tutti.